Musica Ben ritrovati per una nuova puntata di AgriFlash. Con gli acquisti per le festività natalizie si amplia la produzione alimentare e delle bevande che fa registrare un aumento congiunturale dello 0,7%. Vediamo insieme il servizio. Con Natale e Capodanno finalmente l'alimentare registra un dato in aumento. Le spese alimentari rappresentano una componente rilevante del budget destinato dalle famiglie ai doni e ai pranzi di fine anno, sia in Italia che all'estero, dove si registrano risultati sorprendentemente positivi per il Made in Italy. Fuori dai confini nazionali, infatti, sono mai state richieste così tante bollicine italiane come quest'anno, in netta controtendenza alle difficoltà dell'economia nazionale. Con un aumento del 22% nelle bottiglie spedite all'estero, lo spumante italiano con conquista le tavole nel mondo, dove per Natale e Capodanno ci sarà il record storico di brindisi Made in Italy. Il 2014 si chiuderà con la spedizione all'estero di poco meno di 300 milioni di bottiglie di spumante, tra metodo sciarmato e classico, il record di sempre. L'Associazione Pensionati Coldiretti Cuneo ribadisce il suo impegno per la società all'Assemblea di fine anno e rappresenta anche il Vice Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, Andrea Olivero. In servizio. A fianco dell'elezione dei nuovi rappresentanti, che ha visto riconfermare Lorenzo Bergese nel ruolo di Presidente dell'Associazione Provinciale durante la prima parte dell'incontro, sono stati esposti problemi che affliggono la società attuale e che non risparmiano i pensionati. In questi anni i pensionati coltivatori diretti hanno visto ridursi il loro potere d'acquisto sia in riferimento alla soglia di povertà che al paniere dei prezzi. A questo si aggiunge l'effetto negativo della politica fiscale sulle pensioni. A partire dal 2009, infatti, le pensioni basse e medio-basse, come quelle dei coltivatori diretti, hanno registrato al netto del prelievo fiscale una perdita del potere d'acquisto di oltre il 4% che ha inciso sulla vita quotidiana di migliaia di famiglie cuneesi. Di fronte a questa situazione i pensionati col diretti propongono, con la nuova dirigenza cuneese, di lavorare assieme ai rappresentanti regionali e nazionali per adeguare gradualmente i trattamenti minimi di pensione al 40% del reddito medio-mensile, portando le pensioni da 500 a 650 euro al mese, in linea con la richiesta fatta dalla Comunità Europea all'Italia. La seconda parte dell'incontro è stata dedicata al ruolo degli anziani come risorsa per l'agricoltura e non solo. Durante la tavola rotonda sono intervenuti Andrea Olivero, vice ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, Livio Tesio, direttore del Consorzio Monviso Solidale e Cecilia Marchisio, docente dell'Università degli Studi di Torino, oltre a Marcello Gatto ed Enzo Pagliano, presidente e direttore di col diretti cuneo. La discussione ha preso spunto dal ruolo attivo e sempre più importante che i coltivatori in pensione ricoprono in questo periodo di crisi per discutere dell'impegno che i pensionati col diretti intendono offrire. La produzione made in Italy di miele di acacia, castagno, agrumi, millefiori è quasi dimezzata, meno 50% per effetto del clima ed è allarme per l'arrivo in Italia dell'insetto killer delle api che mangia il miele, il polline e soprattutto la covata, annientando così la popolazione delle api o costringendola ad abbandonare l'alveare. Il servizio. E la col diretti a lanciare l'allarme per l'arrivo in Italia del coleottero etina tumida della famiglia dei niti tulidi che aveva già invaso il Nord America alla fine degli anni 90, provocando ingenti danni al patrimonio apistico con livelli di infestazione mai riscontrati in Africa, sua zona di origine. A seguito del venir meno delle api sul territorio si prevedono conseguenze anche per gli agricoltori per la carenza dell'impollinazione delle colture agrarie. Al fine di cercare di mantenere il tessuto economico e sociale del territorio è necessario intervenire a sostegno delle aziende gravemente colpite attraverso strumenti che ne possano sostenere la ripresa dell'attività economica. Ha chiesto il presidente di Coldiretti, Roberto Moncalvo, in una lettera inviata al ministro per le politiche agricole Maurizio Martina nel sottolineare che a tale scopo, vista l'esiguità del regime de minimis in agricoltura pari a 15.000 euro per azienda, risulta fondamentale intervenire attraverso un idoneo regime di aiuto di Stato da comunicare o notificare a Bruxelles secondo la normativa sugli aiuti di Stato definita dal regolamento UE numero 702-2014. La Giunta regionale del Piemonte, su proposta degli assessori all'agricoltura ed all'ambiente, Giorgio Ferrero e Alberto Valmaggia, ha proposto nel corso della seduta del 15 dicembre la delibera in cui si prevede la sospensione per 10 giorni del divieto di spandimento dei liquami zootecnici. Vediamo insieme il servizio. Con la sospensione del divieto decisa dalla Giunta regionale per motivi climatici, i liquami zootecnici si possono spandere fino al 24 dicembre. Il provvedimento è limitato ai soli terreni nelle aree esterne alle zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola e con produzioni in atto residuali culturali, purché venga data la preventiva comunicazione alla provincia. Una buona notizia per le aziende del settore, raggiunta grazie all'impegno attivo di Coldiretti, il regolamento regionale del 2007 vieta l'operazione nel periodo compreso fra il 1 dicembre e il 31 gennaio, ma consente alla Giunta di sospendere il divieto nel caso di particolari condizioni climatiche. Quest'anno abbiamo avuto delle stagioni molto piovose che hanno causato il sensibile posticipo della chiusura del ciclo di sviluppo delle colture primaverili ed estive, in particolare del mais, provocando un ritardo della raccolta. Inoltre il mese di novembre è stato di nuovo caratterizzato da forti piogge, tutto ciò ha prodotto l'impossibilità di spandere i liquami come prevedevano gli agricoltori. Tenendo conto che la temperatura non è ancora eccessivamente fredda e che di conseguenza il terreno non gelato può assorbire il liquido, si è deciso per la sospensione del divieto. Grazie per averci seguito in questa puntata, noi vi diamo appuntamento alla prossima edizione. E vi ricordiamo anche che potete seguirci anche sul sito www.piemonte.coldiretti.it www.piemonte.coldiretti.it